Pol Gascogne verso il ritiro dall'isola dei famosi 2021, gli amici di Novella 2000 hanno lanciato la croccante indiscrezione che da qualche ora sta facendo il giro della rete dopo il suo infortunio durante la prova ricompensa. Fonti vicine al reality di canale, 5 preannunciano infatti l'imminente uscita dal gioco dell'ex stella del calcio anglosassone. L'ipotesi si ai risultati delle analisi e al fatto che, se dovesse confermarsi la diagnosi della spalla slogata, la permanenza nel programma non consentirebbe a Pol di partecipare alle prove. Novella 2000 ha raccolto questa voce che la produzione del programma non ha però ancora confermato. Nonostante la speranza resti di ritrovare Pol Gascogne di nuovo in Palapa lunedì prossimo, le indiscrezioni provenienti dall'Honduras non sembrano affatto comportanti. Voi la state seguendo l'Isola dei Famosi? Nel caso abbandonare il gioco, l'Isola dei Famosi perderebbe un buon concorrente?